Stutture sanitarie rivisti i requisiti, approvata la nuova legge che riordina il sistema di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. ARPAT ha approvati i bilanci preventivo di esercizio e pluriennale, ma per le opposizioni c'è un problema di rinnovo del personale dell'Agenzia Ambientale. Buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. L'Aula del Consiglio regionale della Toscana ha approvato con 22 voti favorevoli, voti della maggioranza. Il sistema di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Con questa nuova legge, ha spiegato il Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni, si introducono modifiche alla legge regionale numero 82 del 2009. Sentiamo proprio di cosa parla questa nuova legge dalle parole del Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni. Sì, allora, sull'accreditamento intanto prevediamo un'equiparazione di chi deve andare a fare le verifiche per l'accreditamento rispetto a quelle che sono le norme per le strutture sanitarie e sociosanitarie. Questo è il primo elemento importante prevedendo la possibilità di un compenso per coloro che vanno a fare le verifiche. Questo magari a chi ascolta sembra poco rilevante, ma invece è fondamentale perché l'accreditamento vuol dire avere garanzia di qualità delle strutture dove i nostri parenti, noi stessi, siamo ricoverati o andiamo per un trattamento. E quindi avere persone di alta qualificazione, che vanno spesso a controllare, è un elemento assolutamente di garanzia. Questo penso sia il nodo di questa norma che poi va a introdurre una serie di elementi di semplificazione normativa levando alcuni adempimenti di comunicazione di atti che ormai non servono più per la ridistribuzione delle competenze e prevedendo ulteriori forme di decadenza e chiarimenti, per esempio che quando un'autorizzazione viene ad essere rinnovata poi deve essere rinnovato necessariamente anche l'accreditamento. C'è una norma abbastanza tecnica che però nella sostanza vuol dire maggior livello di controllo sulla qualità delle strutture socioassistenziali nella nostra regione. Cambiamo argomento. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio 2022, quello preventivo economico annuale per l'esercizio 2023 e il bilancio pluriennale 2023-2025 dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. In questo caso sentiamo le interviste a due consiglieri di opposizione, Capecchi di Fratelli d'Italia, e Baldini della Lega. Abbiamo affrontato nello stesso giorno sia il consuntivo del 2022 che il bilancio di previsione 23-25. Siamo alla fine di novembre 2023, i cittadini possono capire e fare un bilancio di previsione per il 2023 evidentemente è una presa in giro, vuol dire che qualcosa non funziona negli uffici e soprattutto non si riesce a mettere il Consiglio regionale in condizioni di compiere il proprio lavoro, cioè di controllo preventivo e anche in realtà di rilascio di un parere in qualche modo consapevole sulle cose da fare, visto che è considerato che arriviamo ormai strutturalmente sempre in ritardo ogni anno. A prescindere da questo ci sono due problemi per quanto riguarda ARPAT in modo particolare, cioè il primo, il personale, nel triennio è previsto l'assunzione di 44 figure che faranno sforare tutti i limiti di spesa per il personale previsti, sia dalle leggi nazionali che dalle leggi regionali. È possibile l'aderoga, ma naturalmente è un'aderoga di cui si assume la responsabilità la Giunta. Mentre per quanto riguarda i controlli sul territorio, che sono sempre maggiori in termini teorici, vanno assolutamente fatti perché tante autorizzazioni ambientali avvengono con prescrizioni che vanno monitorate nell'interesse dei cittadini e dell'ambiente e sotto questo profilo, come Fratelli Italia, saremo attenti a stimolare l'azienda, l'agenzia, a fare il suo dovere. Il tema dei due atti che sono andati in votazione ieri riguardanti il bilancio 2022 di ARPAT e il bilancio preventivo 2023 sono state l'occasione per ragionare su come sta questa agenzia importante per la Toscana e abbiamo rilevato in modo molto chiaro come i deficit di personale siano assolutamente ancora gravi, come ci sia anche un problema di invecchiamento del personale e quindi come alla luce di quello che almeno è stato fino ad oggi il lavoro di ARPAT, se si prende in considerazione uno specchietto che riguarda almeno gli ultimi 5-6 anni sostanzialmente sono diminuite le ispezioni a tutti i livelli e parlo in particolar modo anche per l'acqua, parlo in particolar modo per l'aria, per tutte le vicende che riguardano temi particolarmente importanti sotto questo profilo, al contrario sono aumentate tutte quelle attività che non necessitano per esempio di ispezione con sopralluogo, tutto questo ha dimostrazione del fatto che ARPAT è in difficoltà dal punto di vista del personale e dal punto di vista anche del personale giovane che in alcuni casi è necessario per affrontare attività particolarmente gravosa e anche quella che è la previsione di assunzione di ben 14 unità ulteriori lascia ovviamente molti dubbi perché il bilancio preventivo è fondato su dati ancora non del tutto definitivi e non certi, le stesse assunzioni dipendono da una serie di atti autorizzatori della regione che sono in essere che ancora vanno visti, tanto è vero che anche la stessa Presidente della Commissione Quarta ha richiamato la Giunta a una sollecitazione da questo punto di vista e quindi ovviamente il gruppo della Lega non ha potuto che votare contrario a entrambi gli atti. Cambiamo ancora argomento, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione sul programma di attività per l'anno 2024 predisposto dal Corecom. Nell'atto di indirizzo presentato dalla Commissione Cultura viene raccomandata la massima attenzione nell'implementare il progetto del patentino digitale e le attività di comunicazione sulle funzioni del Comitato. Sentiamo. Il Comitato regionale per le comunicazioni è un organismo molto importante che spesso i toscani e le toscane non conoscono bene e non sanno quando possono rivolgersi al Corecom e per fare cosa. Per questo la Quinta Commissione ha chiesto che nel piano delle attività sia rinforzata l'azione per diffondere la conoscenza del Corecom in tutta la Toscana attraverso un tour che già il Corecom sta facendo che attraversi tutta la nostra regione porti questa importante istituzione a contatto con i cittadini. I temi poi più importanti che sono nel piano delle attività del 2024 e che la Quinta Commissione ha fortemente raccomandato e quindi l'Aula ha fortemente raccomandato al Corecom sono la cura per la formazione digitale dei cittadini. Questo spazio incredibile, pieno di risorse, che però spesso non sappiamo come sfruttare o come abitare con consapevolezza. Il percorso del patentino digitale, che è un progetto di collaborazione con le scuole, è già molto avviato e ci aspettiamo e auguriamo che si espanda sempre di più. Ma abbiamo chiesto al Corecom di farsi carico anche della formazione digitale degli adulti che non hanno meno bisogno di essere aiutati ad imparare ad operare tutti gli infiniti mezzi che il mondo della comunicazione, dei social, della rete oggi ci offre. Per questo è un ente importante che monitoriamo con attenzione e il percorso del quale seguiamo con grande attenzione da tutto il Consiglio. Ci aspettiamo e ci auguriamo che i cittadini possano sempre di più far ricorso al Corecom, conoscerlo meglio e imparare sempre di più ad adoperare i mezzi di comunicazione per migliorare le relazioni tra loro e per migliorare la nostra consapevolezza di essere un corpo di cittadini unito che insieme può raggiungere tanti obiettivi importanti. E a proposito del Corecom prosegue il tour in Toscana per far conoscere l'attività del Comitato di Controllo. Ultima tappa in ordine di tempo Livorno dove nella sede della provincia erano presenti il Presidente Marco Meacci e la Consigliera Carlotta Agostini. Sì, è la prima volta che il Corecom della Regione Toscana fa un vero e proprio tour nei territori, in tutta la Toscana, in tutte le città capoluogua. Abbiamo iniziato da Prato, poi Pistoia, oggi siamo a Livorno e continueremo in tutte le realtà provinciali. E ci sembra doveroso e importante far conoscere le funzioni del Corecom della Regione Toscana, le attività di vigilanza, di controllo sul sistema radio televisivo, ma anche le tante attività che vengono svolte. Penso per esempio a tutto il lavoro che viene fatto nelle scuole medie con il patentino digitale per dare le competenze digitali ai ragazzi in modo da navigare in modo più sicuro, più responsabile, più appropriato con questi strumenti. E poi per tanti altri servizi, penso per esempio al grande lavoro che il Corecom svolge di conciliazione tra le utenze, i gestori delle compagnie telefoniche e delle telecomunicazioni. È una conciliazione a titolo gratuito che noi svolgiamo e che appunto corrisponde a una grande necessità di tante persone, di tante famiglie, di tante imprese che spesso sono sole in questa giungla, tra virgolette, che hanno bisogno appunto di elementi di conciliazione e di sostegno e di aiuto. E poi abbiamo tante attività che volgono anche, mirano a svolgere attività di promozione delle buone pratiche di comunicazione in modo da valorizzare il patrimonio di informazione, di giornalismo, di comunicazione in senso complessivo che la Toscana esprime. Dal nostro punto di vista sicuramente sarà importante, come stiamo facendo, portare avanti l'idea del panettino digitale perché anche quello che dimostrano i fatti quotidiani. C'è sempre più bisogno di essere preparati, soprattutto per i nostri giovani, per stare sui social, per sapere quello che affrontano stando sui social e quindi per imparare che sì, quella è realtà, ma che ci vogliono i mezzi per saperla gestire. Voltiamo di nuovo pagina. Il Consiglio regionale ha approvato i bilanci di esercizio 2022 dei parchi di Migliarino San Rossore e delle Apuane. Sentiamo il consigliere dei Fratelli d'Italia, Capecchi. La nostra valutazione continua ad essere negativa, anche se riconosciamo gli sforzi delle strutture, perché, come ha ammesso la stessa Presidente della Quarta Commissione, Lucia De Roberti, se in entrambi i casi ci sono ancora evidenti difficoltà gestionali, c'è una situazione che risulta positiva solo per i trasferimenti importanti che la Regione fa verso queste strutture che non riescono ancora a fare un'operazione invece di valorizzazione e di promozione di siti naturali comunque bellissimi, rispetto naturalmente non solo ai toscani, ma rispetto a tutta l'Italia. Per cui gli incassi, per esempio, da attività di merchandising, cioè di vendita di prodotti, piuttosto che di attività che si possono fare all'interno del parco, sono ancora basse rispetto al finanziamento totale. In più c'è un problema di gestione del personale e degli investimenti che va risolto e che noi speriamo vada sempre più verso una promozione sistematica e uniforme di tutta l'offerta naturalistica all'interno della Toscana. In più, per quanto riguarda il parco della Puana, abbiamo fatto una commissione che si è svolta direttamente presso la sede del parco, addirittura parlando anche del nuovo piano integrato che dovrebbe venire avanti. Abbiamo registrato una grande distanza fra gli organismi del parco e la comunità del parco, cioè i sindaci che erano presenti numerosi, di destra, di centro, di sinistra e civici, i quali hanno denunciato che la proposta di piano non è in linea con quanto si aspetta il territorio. E su questo, naturalmente, la discussione è aperta e vedremo come si risolverà nelle prossime settimane. Siamo arrivati all'arte. Nello spazio espositivo Carlo Azzeglio Ciampi di Palazzo del Pegaso è stata inaugurata la mostra L'arte nelle sue forme del pittore cortonese Sergio Grilli. Il messaggio più forte è quello che io onestamente cerco di seguire la nostra tradizione. Oggigiorno, come le sa, la pittura ha cercato un pochino di spaziare pittura moderna, pittura astratta. Io sono un po' lontano da quel mondo. A me mi piace la tradizione. Apprezzo molto, per esempio, i pittori del nostro passato, pittori, il nostro, beh, sono un po' lontano, certo, Leonardo da Vinci, c'è il Caravaggio per le sue nature morte e tanti altri pittori dove mi ci rivedo meglio, insomma. Amo tutta la pittura. Non mi sono mai permesso di dare un giudizio a uno troppo lontano da me. Ognuno fa quello che vuole, però sono lontano da quel genere, insomma. Dunque, la mostra di Sergio Grilli effettivamente lancia un messaggio per la nostra società che è un po' imbarbarita, diciamo, da certe mode, da certe forme di arte che non sono rapportabili a quella che è la grande arte, soprattutto rinascimentale. Io credo che Sergio Grilli parta da lì, per continuare il suo ragionamento, il suo discorso, la sua intuizione sulla bellezza dell'arte e su tutto ciò che l'arte può dare al miglioramento della società. Sono molto soddisfatto di avere promosso questa mostra all'arte nelle sue forme di Sergio Grilli, che è un cittadino di Cortona, in particolare della frazione di Terontolo, dove risiedo anche io. Quindi c'è un legame di stima e di amicizia e sono contento di aver portato qui un artista che ha avuto numerosi riconoscimenti. nel 1995 la Biennale di Venezia, non solo, è un pittore poeta, quindi un pittore che traduce la sua idea di bello nell'arte e la sua idea di bello spesso inevitabilmente coincida con il nostro paesaggio, la nostra storia. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, grazie per l'attenzione e buona serata.